Ciao ragazzi, i scaldi sono finiti, non ci sono sconti, non si regala più nulla. Andrea Pezenato, fai un colore risciato. Ha mollato le gabbie ragazzi, 300 cavalli impazziti, romati da lui, ma di come si è dato, dicevo non si fa ristagno. Raggiù mi sono in 400 km all'ora con apertura all'area di 8.8 metri e resiste fino a quasi 10 g di accelerazione ed ora ve lo dimostra impegnatamente. Punta del minuto, non lo spazio nessuno, non tira più il verticale, verticale effettiva, cambia posizione, non pianta fino che la forza di gravità lo permetta. Vanetta al massimo, gravità a zero in questo momento, lo fa scivolare tala e naturalmente scivola anche il vostro attrauto. Vai signori, vai il volo è riusciato, il negativo lo tira su di nuovo. Qua sta la potenza di questo evento ragazzi, sfida le leggi dell'aerodinamica e non può fare altro perché sotto il sedere ha ben 400 cavalli rabbiosi, ma dovanti dal buon Andrea, che a suon di fumo a dipingere le traiettorie, dà grande prova di acrobazia nel cielo di Desenzano e in questo fantastico airshow che porta il nome di Desenzano Airshow. A terra Eleonora, la sua compagna. Vediamo, chiediamo a Eleonora se è possibile, vediamo se possiamo collegarsi per un saluto con Andrea Pesenato. Vai Andrea! Quota, fa quota ragazzi, la quota è munita, diceva il generale Marani. Attenzione, e lo lascia cadere, vai! Delivolo che scende in una traiettoria non controllata ma gestita, contate i cerchi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Sette, otto, nove, dieci, undici, e poi via, undici fantastiche, roteate, giù che attivo, e poi di nuovo il display. Bravissimo Andrea, forte il nostro applauso, vai! Grande Pesenato, grande Pesenato, ma ragazzi non è soddisfatto, non è sasso, perché il suo programma è ricco, accordi numeri. Rientra di nuovo Andrea, lo punta sul centro di display, non abrizza, aspettate il rumore, via il ruota! Il Lada Sky del lato interno, a ricordare il mitico reparto alta velocità di Desenzano, va a chiudere questo 360 a livello dell'alto. Il Lada Sky del lato, il Lada Sky del lato, il Lada Sky del lato, scaldisce i tempi, come un orologio svizzero, dando ad Andrea un perfetto portamento, un perfetto rispetto del piano di volo. Palleggia di Manopola sui fumi, Pesenato, prende quota! Eleonora che candisce sul palmario del programmino di volo, in perfetto contatto radio, prende quota Andrea, arriva dalla destra, attenzione! Giù di potenza, su di nuovo! Bellissima la variata della sonorità motore nella variazione d'assetto. E applauso per questa manovra che è incredibile ed è realizzabile solo con macchine di questo tipo. Riprende l'assetto corretto Andrea Besenato, queste selezioni all'acchiello che gli permettono costantemente di andare sul fuoco nelle migliori gare d'Italia e di tutto il mondo. Arriva in volo adesso! E vai in negativo, vai in negativa! Peso tutto sulla testa e via di nuovo a frullare con questo fantastico top 2-31. Io seguo questa manovra! La risposta è i vecchi mori russi che impazzavano come impazza il Buon Andrea in questo momento con un amico di una professionalità assoluta. Bella la caduta dei fumi! Ascoltate il rumore! C'è la musica! e al sesto minuto di acrobazia pura del nostro presentato più di nuovo la musica e riascoltiamo un po' la melodia del motore fino ad anche la croppa in cielo attenzione applauso che scorca spontaneo da questo fantastico pubblico questa signori è la classe di Andrea Pesenato rientra sulla linea di volo passaggio sulla mica un penello nel cielo una precisione da maestro e sono ancora 120 secondi di piacere aeronautico per voi che siete a terra dipinto a preparare un pazzoletto fuori mentre questo fantastico cerchio che viene dipinto nel cielo si prepara perché è un modo visibile per farci vedere da Andrea quando poi transiterà lo saluteremo con tutte le nostre forze disponibili al modo per dire grazie a questo grande manico del cielo non è anche se non è che se vi è guidato verticale fino al limite della potenza disponibile velocità zero non lascia andare termola attaccato appeso un fiodo scampanata signori Andrea Pesenato è giù in questa vite clamorosa bellissima rientra in linea display Pesenato cattivo come una vesta vesta intesa sette via mantenendo perfettamente la quota di volo sul tratto dei 3.000 metri di display va a deliziare agli amici est sinteticamente così da noi definiti per la loro allocazione geografica rientra con il con la manetta al massimo mantiene l'assetto perfettamente e taglia di pilato tutti i 3.000 metri della display light Roma Andrea applausi che escono spontanei per il buon Andrea ottima prestazione salutone fino in fondo grazie Andrea grazie l'onora grazie a tutti grazie a tutti Grazie.